Un'altra amica, un'altra ambassadora di questa causa importantissima da tanti anni di Tennis & Friends, Milena Miconi, buongiorno. Buongiorno a te, è sempre, vedi, io sono sempre qua, pronta, quando mi chiamano io arrivo, lo sai, noi ci vediamo sempre, quindi lo sai. Sempre metti, sempre il tuo volto, la tua faccia per le cause importanti, e questo da sempre. Ma sì, perché è giusto così, insomma, noi, soprattutto noi che facciamo questo lavoro e quindi siamo esposti chiaramente in maniera, chiaramente più forte, insomma, la gente ci segue, è giusto che il messaggio arrivi bello, forte e chiaro. Prevenzione, Milena, questa parola importantissima in questa giornata e sempre, no? Sei d'accordo? Assolutamente sì, beh, è l'unica cosa che ci salva, è l'unica cosa che in qualche maniera può aiutarci a combattere in questa vita così complicata, sempre dietro l'angolo, quindi noi dobbiamo subito essere pronti. Televisione, cinema, è tantissimo teatro in questo momento, sta arrivando al momento una premiere d'am del teatro, pochi tantissime cose, e anche insieme nel femminile, no? Cioè, siete, avete portato quest'ultimo spettacolo, energia forte, femminile. Ma io amo le donne, quindi credo che insieme siamo forti e potremmo cambiare il mondo se ci dessero un po' più di possibilità, che ancora siamo un po' in difficoltà, però, però ci stiamo, piano piano, stiamo andando verso una bella direzione, la giusta direzione. Il mondo femminile, lo auguriamo veramente? Sì, 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 ma perché è normale, ma voi uomini, dico senza le donne, ma che fareste? No, per carità, eh, anche noi donne abbiamo bisogno dell'uomo, però insomma, siamo belle forti, riusciamo a fare tante cose insieme anche, pensa. Incontrare i due generi, come tu hai sempre detto. Sì, assolutamente sì, sì, sì. Grazie, buona giornata qui a Tennis and Friends, ormai sei di casa, questa è la tua... Guarda, sono appena arrivata, quindi adesso vado a fare un bel giro, vado a salutare un po' gli amici, perché è una bella occasione anche per incontrarsi questa, no? Quindi, oltre il messaggio, anche la condivisione, che è importante. Grazie. Grazie, Milano.